Stop alla pedofilia e uno degli striscioni portati in strada dei tanti cittadini di Scanzano per denunciare gli abusi su un minorenne avvenuti tra il 2012 e il 2013 su Lidi di Nuova Siria e Rotondella, venuti alla luce nei giorni scorsi grazie ad un'inchiesta della magistratura che ha portato anche all'arresto di tre persone, tra cui un prete di San Costantino di Rivello. I bambini non si toccano, chiunque esso sia, a me non mi interessa. Siamo qua per dimostrare che siamo contro qualsiasi violenza, ma principalmente contro i bambini, che non si devono toccare per nessun motivo. Bisogna essere forti, fortissimi, per combattere, ma combattere sul serio, questa grande malattia che è la pedofilia. La marcia organizzata dall'agente di spettacolo Rocco Corsano per esprimere anche solidarietà alle giovani vittime degli abusi ha visto la partecipazione anche di amministratori e delegati comunali di numerosi centri della zona. Purtroppo anche nel nostro paese si è perso quel sano controllo sociale che c'era una volta. Prima diciamo anche gli amici controllavano i figli degli amici. Oggi questo è diventato molto più complicato e dobbiamo iniziare a chiederci perché questo non succede più. Molte volte i figli sono dei perfetti sconosciuti per i genitori, non si accorgono di quello che succede intorno all'ora. Quindi cominciamo dalle famiglie a instaurare un rapporto diverso nelle dinamiche stesse della famiglia.